Musica Questa è la parrocchia di San Bartolomeo della Bibianara E lei è? Pirani, parroco, da 30 anni in questa parrocchia Io faccio parte della comunità islamica di Bologna che la sua sede è in via Pallavicini Centro di Cultura Islamica di Bologna Grazie E come si chiama? Sono Aisha Spiegare il fatto che organizzate tutti gli anni questa cosa è bellissima A che cosa serve? Perché la organizzate? Questa cosa del dialogo ecumenico che stiamo tutti portando avanti Mi sembra che ve lo portate avanti effettivamente Interreligione Come una solidarietà spontanea che sicuramente uno lo fa per Dio ma allo stesso tempo anche un discorso umano perché qui partecipano anche gente non credente quindi è una solidarietà umana questa per chi ha bisogno veramente questo è un bisogno immediato che bisogna che noi ci rendiamo conto che c'è un bisogno quindi chi vuole essere partecipe a questa solidarietà è già di per sé una cosa positiva poi se uno ha una fede lo crede anche dal punto di vista della fede ben venga però è aperto non solo ai paracchiali di Don Dio perché vengono gente che lavora in fiera che non conosciamo se ha una fede sono anche due buddisti ebrei un po' di tutto vengono qui quindi è una solidarietà umana verso un popolo che soffre verso una necessità immediata che c'è che bisogna che ci rendiamo un conto che c'è gente che veramente non ha niente per sopravvivere cioè non è un qualcosa che dobbiamo avere una cosa quotidiana nel nostro cuore per chi ha bisogno per chi ha delle necessità immediate che noi mandiamo questi soldi a dei bambini che non possono sopravvivere quindi come è nata l'idea di organizzare queste cene da quanti anni è che le organizzate e come è nata l'idea di organizzarle e inoltre vi chiedo come è nata l'amicizia la buona conoscenza la collaborazione tra voi due che fate un po' da leader del gruppo mi pare è stata costruita diciamo mano a mano che ci sono delle necessità a livello del mondo poi da una cosa siamo partiti che qui non c'era la cucina quindi cucinavamo in un altro posto dove ci rendevamo in affitto la cucina adesso c'è la cucina quest'anno abbiamo avuto più comodità perché siamo un po' più ricchi e siamo venuti direttamente a cucinare qui da Don Nildo però siccome questa solidarietà non si fa solo qui si fa anche a livello di centri anziani dove c'è disponibilità di una cucina quindi noi partendo diciamo da altri punti visto che la cosa piaceva una cosa veniva alla gente abbiamo sfruttato anche altre occasioni religiose o meno religiose cerchiamo di farlo una volta all'anno però se uno veramente ha questa cosa in cuore si può fare anche più volte perché la gente viene volentieri è una cosa che bisogna che noi non ci facciamo dimenticare Don Nildo potrei rifare un po' la storia la conoscenza e la collaborazione è nata su argomenti di carattere più religioso culturale cercavamo qualcuno che potesse dire la voce dell'islam in incontri tri partiti cattolici cristiani ebrei e musulmani non ricordo neanche come ma si si siamo siamo partiti così in effetti abbiamo fatto varie varie riunioni di questo genere organizzate dal quartiere alcune anche dalla parrocchia per conoscenza reciproca e poi da questa conoscenza è nata anche quest'altra esigenza parlare di Dio e dimenticarsi dei suoi figli ma gli hanno detto non è molto bello non è molto valido allora appena ci è stato chiesto di poterle fare queste scene di solidarietà non ci pare severo di poterle fare cosa che poi noi facciamo anche con altre occasioni e con un'altra gente quindi fa parte del costume della sua parte fa parte sia quello di interessarci e di conoscere gente diversa sia quello di offrire delle occasioni di aiuto così anche al di là delle differenze confessionali qui delle volte sono state valorizzate queste perché siamo partiti proprio da volersi conoscere come credenti nell'unico Dio in diversi modi professato ma poi ci sono state tante altre cose questo sostegno nella Palestina da dove che radici ha questo momento penso che è un momento forse più tragico ci sono diciamo infinità di paesi dove noi già c'è un'adozione da parte dell'Islamic e allora a questo momento abbiamo cercato di pensare a quali bambini adottare abbiamo pensato subito alla Palestina perché c'è questo embargo perché ci sono dei problemi seri per chi viene di là e dice che veramente si trovano in una situazione terribile questi questi bambini e allora abbiamo cercato di adottare loro per questa esigenza immediata che c'è giù in Palestina tu sei andato anche hai visto noi siamo poi in relazione io due mesi fa ero in Palestina e ho visto a Gaza ci hanno lasciato andare perché ero poco sicuro ci siamo andati vicini però ma ho visto il resto della terra le zone palestinesi circondate dai muri la gente che è lì con pochissime risorse non è che gli ebrei stiano molto meglio anche così solo che sono quelli che hanno più mezzi e quindi sono anche più sostenuti magari dall'Occidente perché lo siamo anche più mezzi perché sono più sostenuti ma certo ma certo poi due modi di concepire la vita molto diversi situazioni alle spalle diversissime comunque queste cose sono sempre interessate in questa parocchia noi andiamo abbastanza spesso con qualcuno quindi una grande sensibilità nei confronti di questi popoli quindi è possibile il dialogo interreligioso è assolutamente possibile questa è una se è tale non solo è possibile ma è necessario è importante è importante è importantissimo riteniamo credenti nello stesso Dio sì provenienti dalla feria abramifica sui abbrano tutti i tre cristiani ebrei i vai vogliono aggiungere anche loro che si la fede è un unico Dio non sono sempre facili questi rapporti soprattutto perché interferiscono questioni sociali politiche che come si sa invece di unire dividono mentre di per sé la religione potrebbe unire io spero che la religione superi le altre divisioni quali sono le questioni sociali in particolare che tentano di dividere o comunque che esprimono questo senso qui l'occupazione da parte di un popolo verso un altro popolo sono questioni molto importanti facilissime chi crede la giustizia è la cosa che deve fede senza giustizia non esiste cioè io non posso venire a rubare la tua casa il tuo vivere per stare meglio io e te cacciarti fuori dalla tua casa due sere fa qui era nostro ospite un personaggio che fece molto parlare di sé la parte Franzoni della comunità di San Paolo incontro bellissimo serenissimo per niente contestatore lui ricordò nei tempi della sua vicenda quindi dopo il concilio parlando con molto rispetto di ammirazione di Paolo VI che Paolo VI intervenne ai tempi in cui ci fu l'attentato con molte vittime alle Olimpiadi di Monaco un gruppo di comando centrale del Milano Olimpico e tutti ecco e ci fu un intervento anche di Paolo VI che ovviamente deprecò poi aggiunse bisogna però anche tenere presente che queste cose nascono da contesti di ingiustizia che diventano l'alimento poi della violenza che esplode anche in queste forme che possiamo provare che si possono anche capire però e questo è un aspetto molto importante e interessante sul nostro territorio vi sono delle spinte sociali verso questo tentativo di unione o di collaborazione o di cooperazione quali intende il nostro? territorio nazionale oddio l'Italia è un mondo secondo me in Italia c'è di tutto ce ne sono ma ci sono anche quelle contrarie purtroppo che tendono a dividere quando poi la questione diventa politica e di massa inevitabilmente diventa polemica io ho presentato i parrocchiani facendo propaganda per la cena di questa sera all'iniziativa dicendo noi interveniamo un po' veramente come possiamo a favore delle popolazioni palestinesi senza bisogno di bruciare niente e nessuno facendo riferimento lo si può fare con amicizia e con discrezione anzi forse forse è più efficace io sono convinto che alla lunga certamente lì per lì i giornali parlano di più di questi momenti che sono punte dell'iceberg però chi costruisce è la base bruciare le bandiere credo che non abbia mai portato nulla di buono comunque è costruire è parlare è dialogare non muri ma ponti disse Giovanni Paolo secondo non muri purtroppo i muri sono già costruiti si stanno ancora proseguendo in costruzione e c'è chi apertamente aiuta queste cose per fare un tragitto che richiedeva io l'ho fatto molte volte 10 minuti dal centro di Jerusalem a Betagna dove c'è la tomba di Lazaro siccome la tomba di Lazaro è di là dal muro adesso bisogna fare 35 km per raggiungerla ed è tutto così perché i villaggi palestinesi sono circondati sono isole circondate quindi la cena di questa sera che cosa vi permetterà di fare ci permetterà di fare di pensare ancora di ripeterla in altre sedi se è possibile oppure clonare Don Nildo così avremo più parocchie intanto facciamo questa adozione che poi spero che insomma loro ci manderanno loro anche foto per farli vedere l'anno prossimo insomma ci sarà un'adozione che poi faranno sapere chi sono le bambine il loro nome insomma che va a buon fine tutto e inshallah speriamo al meglio quindi sareste disponibili anche a fare altre cene in altre parrocchie magari sempre con la presenza di Don Nildo magari lo posso io nelle altre parrocchie non comando mica no ma anche in altri siti posso chiedere posso farmi da fare da intermediario ma penso che ci siano delle disponibilità in questo senso magari quindi anche dal punto di vista del cattolicesimo c'è molta apertura secondo me ci sono delle persone che sono certamente disponibili il rischio è che se queste cose vengono viste senza conoscerle diventino oggetto di polemica se uno le conosce e vede cosa si fa penso che non è niente da ridire né dal punto di vista sociale dal punto di vista religioso non so cosa si potrebbe ridire noi non siamo per il mescolamento delle cose per dire che è tutto uguale no il dialogo vuol dire che ognuno conosce se stesso le sue tradizioni assolutamente la sua storia la sua identità e questo farsi conoscere per noi è molto importante oggigiorno perché di quello che mi risulta io sono 30 anni che vivo qui e molte volte ho parlato proprio con la dottoressa la pediatra di mio nipote un giorno riferendoli che nel Corano c'è un capitolo che si parla di Maria che per noi Gesù è una figura molto importante di gran rispetto sono tutte cose che un cattolico non sa sull'Islam quindi io quello che mi risulta diciamo nel mio piccolo nella gente che io frequento non sanno niente della mia fede invece per un musulmano viceversa un musulmano sa già tante cose del cattolicesimo della cristianità dell'ebraismo di tutti i profetti precedenti invece per un'arma le assorbite non sempre diciamo noi la forma nell'unica forma le assorbiti in una forma che non è l'unica possibile ce ne sono anche altre per cui c'è da discutere il muro il muro più alto è quello dell'ignoranza certamente al 100% e con il fatto che mentre gli altri si vedono e loro si possono anche evitare distruggere quello non si vede ed è quello più terribile solo quando proprio ci batti contro e questo succede forse questo un obiettivo che hanno i grandi di tenere la gente proprio inerrante ma noi come credenti speriamo di fare anche dei confronti ancora sulla fede con Don Nildo e far conoscere insomma ognuno la propria come la pensa qual è la sua fede tutto questo proprio per avere un ampliare un po' le cose una dimostrazione di rispetto una dimostrazione di accettazione di scambio di accoglienza della diversità quale ricchezza dato che noi non abbiamo la moschea qui io dico sempre questa è anche un po' la mia moschea questa è una cosa bellissima però che però non mescono troppo le cose la moschea mi darebbe dei problemi non ti preoccupare andremo bene non ti preoccupare non è un mescolare è un convivere che è diverso un convivere va bene un mescolare il califomar quando prese Gerusalemme senza colpo ferire perché il patriarca gli consegnò le chiavi siamo nel 650 dopo Cristo e lo invitò a entrare nella Basilica del Santo Sepolcro e lui disse no io non entro con tutto il rispetto per il luogo perché se io entro dopo i miei lo dichiarano cosa loro e lo sottraggono all'uso dei cristiani per cui io prego di stare qui fuori e se vi sarà una piccolissima moschea accanto questo è stato un altro molto bello non entro perché dopo non posso più entrare i cristiani non tanto per la sottrazione tanto perché noi non possiamo pregare in un luogo dove ci sono le immagini non è un discorso di sottrarsi perché un musulmano per un cristiano può pregare in una moschea dove diciamo non ci sono le immagini però la preghiera la può fare tanto è vero che il nostro profeta ha invitato i cristiani allora ha celebrato per loro proprio la messa dentro la moschea hanno pregato dentro la moschea però noi come musulmani non possiamo pregare in un luogo dove ci sono le immagini e le statue perché è una cosa di associazione a Dio quindi la preghiera deve essere svolta all'aperto sì però non davanti alle statue solo per questa ragione lui fece la preghiera fuori perché per un musulmano tutta la terra è una moschera organizzate degli incontri interreligiosi quindi qua in parrocchia non so se che li facciamo in quartiere di solito ah in quartiere ad aprile anche a tutti qualche volta è capitato anche qui in parrocchia ma e l'affluenza buona sì non sono mai il problema è con gli ebrei perché gli ebrei sono pochi vanno malvolentieri se non sono perfettamente sicuri così il ravino però è per noi però non in tutti i incontri solo il primo si visteciò sul tema della pace le scappelle si visteciò sul tema della pace e dopo il fiume non è tutto no in tutti i primi svi per la pace no in parrocchia no in parrocchia no in parrocchia no in parrocchia